Federico Lorenzo Celano Marconato Anni 24 ad ottobre 25 11, quasi 12 Vivo in Sicilia In Veneto, in Italia Sport preferito, il calcio Sì, calcio La mia squadra del cuore è Catania e poi mi piacciono Inter, Napoli e Milan Molte altre squadre Inter Blu Il nero Le materie che mi piacevano, italiano e spagnolo Materia preferita Tedesco, inglese e musica Cibo preferito non ne ho perché mi piace molto mangiare Quindi se devo dire un cibo preferito Dico scacciata catanese Il mio cibo preferito è la pizza e il sushi Entrambi Non c'è una differenza La mia giornata la passo facendo attività sportiva Giocando con Xbox E non lo so Quello che mi viene in mente Faccio La passo con i miei gattini Stando con i miei gattini O giocando alla play Facendo le live Sì, ho un canale YouTube Che si chiama Federico Celano E poi un altro canale Sniper trattino basso l'ore 800 Che è mio cugino Andatelo a seguire Sì, si chiama Sniper trattino basso l'ore 800 E anche quello di mio cugino Federico Celano E andatelo a seguire Ciao Ciao